Ti guido io, vieni. Vuoi guidarmi tu? Credi di esserne capace? Mi fate tutti sempre la stessa domanda. Certo, tu non hai mai visto questi posti. Come pensi che sia arrivata fino a qui? Topazio, ultima puntata. Lunedì alle 16 e in replica martedì alle 12 e 20. A seguire alle 16. La scena che ha visto la bambina deve essere stata terribile. L'importante adesso è pensare a dare un futuro alla bambina. Gressia, la nuova telenovela con Gressia Collonaris. Eccomi, sono qui, Suor Clarissa.